Ciao a tutti, oggi è domenica e come ogni domenica sono appena tornato, per chi non lo sapesse sono appena tornato dalla partita di calcio, abbiamo vinto quindi perfetto Breve parentesi, per chi se lo stesse chiedendo gioco in seconda categoria in Piemonte, sono contento perché abbiamo vinto ma oggi sono comunque focalizzato per portarvi il video giornaliero della 30 video challenge che vi ho promesso Detto questo video oggi non particolare però voglio farvi capire una cosa che personalmente ci tengo e applico Questo non è altro che un video successivo a quello che ho fatto all'incirca un mese fa dove vi andavo sostanzialmente a far vedere quanti dividendi ho ricevuto nei vari anni in cui iniziato a investire tramite questo portafoglio pubblico qua Questo qua non è altro che il grafico dei mesi con i relativi importi e le somme totali e secondo me è interessante vedere un po' voi della community come siete messi in termini di ricezione dei dividendi So che è un argomento che interessa a tutti perché sostanzialmente i video dove parlo di dividendi sono quelli anche più piaciuti e più apprezzati da tutti ma questo è anche una mentalità italiana che ha i suoi pro e i suoi contro Una cosa che sicuramente è inefficiente ai dividendi è il fatto che nel momento in cui l'azienda decide di distribuire i dividendi dovrà sostanzialmente andare a pagare lei e i singoli soci una ritenuta e delle imposte in generale sui dividendi Quindi questo non è efficace fiscalmente sicuramente sarebbero da apprezzare di più i share buyback che sostanzialmente hanno più o meno lo stesso effetto sull'azienda ma sono più efficaci fiscalmente Perché nel momento in cui l'azienda decide di prendere i soldi e anziché rilasciare i dividendi ricompra le sue stesse azioni è come se allo stesso modo i dividendi desse valore agli azionisti Perché nel momento in cui il numero di azioni si abbassa inevitabilmente a parità di market cap la singola azione vale di più Ma se noi togliamo il lato fiscale il dividendo in sé se dato bene a mio avviso è un forte indicatore di quanto un'azienda sia forte nel proprio settore Infatti se voi andate a vedere le aziende dalle quali io ricevo i soldi sono sostanzialmente aziende che hanno raggiunto un livello di maturità che gli permette di avere sì parte dei soldi da reinvestire nella propria attività ma anche parte da dedicare agli azionisti E' per questo che quello che vi dico io è cercate il più possibile aziende che siano in questo tipo di crescita qua Sicuramente altre aziende che hanno iniziato ad essere interessanti per ora lato dividendi sono quelle aziende di cui vi ho parlato in un video di poco tempo fa ovvero le dividend growth Ovvero le aziende che crescono i propri dividendi a doppia cifra magari anno su anno una di quelle molto interessanti potrebbe essere Microsoft perché vi sembrerà una cavolata ma io comunque da Microsoft ho già ricevuto 15 euro di dividendi Io su Microsoft avrò investito su questo portafoglio qua 1000 euro so che sembra poco però su Microsoft sto guadagnando anche tanto tramite capital gain Quindi se riuscite a trovare aziende che vi permettono di massimizzare i profitti tramite capital gain ma anche che rilasciano i dividendi secondo me è come se fosse un'assicurazione sull'investimento Un'altra sicuramente forse un po' più vecchiotta è Apple dove ovviamente io su Apple ho ricevuto meno dividendi non ho ricevuto solo 7,67 euro che sono pochi Però su Apple io ho visto veramente pochi soldi semplicemente perché cerco una crescita tra dividendo e capital gain almeno del 10% anno e secondo i miei calcoli Apple non dovrebbe riuscire a garantirmela Ed è per quello che a un certo punto nel momento in cui Apple continuava a crescere ho smesso di investirci Ho fatto un video proprio al riguardo di questa azienda qua ieri che ho visto anche che vi è piaciuto molto Westrock è un'azienda che si è abbastanza piccola perché capitalizza solo 8 miliardi ma è un'azienda che potenzialmente cresce i ricavi del 5-10% anno e rilascia un dividendi abbastanza elevato Pensate che rilascia un dividendi ai prezzi attuali all'incirca di un 3,5% che per un'azienda che rilascia un dividendo del quale siete certi e potenzialmente cresce anche di valore potrebbe essere interessante Quindi monitoratela io su Westrock ok è una posizione abbastanza grande però ho già ricevuto 50 euro di dividendi praticamente Considerate sempre che i valori che vedete vi sembrano piccoli ma io al contrario di quello che vi dicono tutti gli altri youtuber Un portafoglio molto diversificato perché ho creato un algoritmo che secondo i miei calcoli dovrebbe riuscire a farmi battere il mercato pur essendo diversificato Perché io voglio essere diversificato ma battere lo stesso quindi non voglio rischiare di avere un portafoglio in cui ho 10-15 azioni Perché infatti il mio portafoglio ha all'incirca di 50 aziende e teoricamente attualmente sto battendo il mercato Tra l'altro vi ricordo che molto probabilmente a breve visto che me lo state chiedendo in tanti vi porterò il video aggiornato sul mio portafoglio attuale Quindi restate sintonizzati Anche sulle farmaceutiche ragazzi sto facendo veramente tanti soldi sia nei dividendi sia per il capital gain Merck è un'azienda dove sto guadagnando Io sono sempre pochi ma in realtà se sono risomati tutti i dividendi non sono pochi soprattutto alla mia età 21 euro di dividendi più tutto il capital gain che sono altri 100-200-300 euro Stessa cosa Pfizer Su Pfizer sono già 16 euro di dividendi e sommati quella potete vedere che io ho già ricevuto nel 2022 e nel 2021 più di 200 euro di dividendi Che ripeto mi sembrano pochi però se considerate che il mio portafoglio non è un portafoglio per dividendi Anzi è un portafoglio dove la maggior parte delle aziende sono improntate sulla crescita ma alcuni lasciano dividendi non è male E io ve lo dico personalmente li percepisco i dividendi che ricevo nel senso aumentano mensilmente le mie entrate E questo mi fa piacere Quindi dateci sempre un'occhiata non tralasciateli E poi sostanzialmente le aziende che lasciano i dividendi salvo orari casi Tante volte sono aziende che hanno dimostrato di poterlo rilasciare Questo comporta il fatto che siano anni che magari fanno utili elevate Quindi a quel punto lì una volta che hanno deciso di smettere o perlomeno rallentare gli investimenti Le aziende decidono di premiare gli azionisti che hanno creduto nell'azienda Per non parlare di tutte le banche Se io vado a prendere i dividendi che mi hanno lasciato Bank of America sono 28 euro Se io vado a prendere JP Morgan sono altri 50 euro Se vado a prendermi Sinovus Financial sono altri 10 euro Se io vado a prendere Huntington Bank Shares sono altri 23 euro Sono aziende di banche che ho monitorato e investito io in prima persona Che mi rilasciano i dividendi costanti nel tempo e su tutte queste aziende qua Sto guadagnando il dividendo che è spesso elevato ma sto anche guadagnando quasi sempre anche tramite il capital gain Attualmente l'unica azienda dove forse perdo dei soldi nonostante mi stia dando i dividendi è forse Verizon Do già ricevuti 17 euro di dividendi ma sicuramente ne sto perdendo molti di più Però ci può stare Se io ne sbaglio una su 25 mi va bene Ma per apparenzi non sono sicuro di aver sbagliato gli investimenti su Verizon Quindi la moneta e vi farò sapere Per non dimenticare la mia amatissima Coca Cola che mi ha rilasciato 29 euro di dividendi E se voi li sommate tutti nel corso del tempo io ho già ricevuto 620 euro di dividendi Che è solo una parte dei guadagni che sto facendo Vedete che sto facendo 620 euro di dividendi Vedete che sto facendo 2000 euro di plus valenze E vedete che oltre a questo sto facendo altri 1000, 2000, 3000 euro di plus valenze non realizzate Capite che se sommate tutte queste cose qua i risultati sul lungo termine fanno la differenza E soprattutto si vedono Detto questo fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete qualche azienda che vi lascia dividendo Che voi ritenete interessante in modo tale che io nel caso vi rispondo E comunque la community può vederlo Detto questo spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bel like e un commento E ci vi chiamo al prossimo video Ciao a tutti